Ci sono limiti che sono più importanti e più utili di altri. Perché? I limiti notevoli sono limiti che interessano funzioni che si incontrano spesso in problemi matematici e allo stesso tempo questi limiti richiedono dimostrazioni anche molto complesse. Conoscere e sapere applicare questi limiti notevoli può essere molto utile per semplificare calcoli complessi. Consideriamo un qualsiasi calcolo di limite e immaginiamo che tutti i nostri sforzi per calcolare questo limite siano giunti ad una forma indeterminata. Per proseguire osserviamo il limite e la funzione. Cerchiamo somiglianze per poter applicare un limite notevole come questo. Una volta inserito nel calcolo un limite notevole e risolto potremo applicare le regole dell'algebra del calcolo dei limiti di funzioni continue per poter risolvere il nostro limite di partenza. Questo vale in tutti i casi, sia nel calcolo di limiti per x che tende a un valore infinito, sia in altri casi per cui x tende a valori finiti e in casi nei quali i limiti assumono valori infiniti o finiti. Il nostro scopo quindi sarà quello di agire su variabili e funzioni per poter inserire nei nostri calcoli limiti notevoli come questo e come questo, che sono fra i limiti notevoli più noti e insieme ad altri più utili e che sarebbe bene conoscere a memoria. Calcoliamo il limite per x che tende a 0 della funzione arcotangente di x fratto x. Per prima cosa esaminiamo la funzione. Se esistono i limiti di numeratore e denominatore e se il loro quoziente è determinato, il calcolo è fatto. Al numeratore calcoliamo il limite per x che tende a 0 di arcotangente di x, che è uguale a 0. Il limite al denominatore è anche questo uguale a 0. Otteniamo così 0 fratto 0, che è una forma indeterminata. Da questo calcolo non avremo risultati. Per proseguire calcolare il nostro limite di partenza, quindi, dovremo ragionare su variabili e funzioni, vedere se ci sono delle somiglianze e se possiamo applicare un limite notevole. Innanzitutto, osserviamo che la funzione al denominatore è la tangente della funzione al numeratore. Poniamo quindi t uguale ad arcotangente di x e da ciò segue che x è uguale alla tangente di t e il limite per x che tende a 0 di t è uguale a 0. Prendiamo ora in considerazione questo limite notevole, limite per x che tende a 0 di sen x fratto x, che è uguale a 1. Osserviamo che la funzione seno e la funzione tangente sono strettamente imparentate. Vediamo come sfruttare questa cosa nel nostro calcolo. Riscriviamo il limite di partenza come limite per t che tende a 0 di t fratto la tangente di t. Riscriviamo la funzione al denominatore come seno di t fratto coseno di t e otteniamo quest'altro limite. Riscriviamo la funzione in modo tale da portare la prima frazione al denominatore e otteniamo limite per t che tende a 0 di coseno di t fratto seno di t su t. Procediamo quindi con i calcoli, calcolando separatamente il limite al numeratore e il limite al denominatore. Il limite per t che tende a 0 di coseno di t è uguale a 1. Al denominatore il limite per t che tende a 0 di seno di t fratto t è uguale a 1 come visto dal limite notevole. Il limite è quindi uguale ad 1 e 1 è proprio il valore del limite di partenza. Conoscere a memoria i limiti notevoli e saperli usare al momento giusto è quindi molto utile per poter semplificare calcoli di limiti altrimenti complicati. Grazie a tutti.